Un cordiale buongiorno da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla FIPILI dove a causa di lavori si registrano due chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze e code a tratti in direzione Livorno. Rimanendo in FIPILI si segnalano code a causa di lavori anche tra Ponte d'Eraest e la Diramazione e Pisa Livorno in direzione Mare. Fino a uno si ricorda che a causa di lavori rimarranno chiusi fino alle 18 di oggi i tratti tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna e tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Chiudiamo con i cantieri della città di Firenze a causa di lavori di asfaltatura fino a domenica 28 marzo rimarrà chiusa la rotatoria in piazza Goldoni tra Via del Moro e Via dei Fossi. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!